Una toccante poesia, un breve video e un palloncino speciale, rosso e a forma di cuore, accanto ad altri 28 di bianchi per ciascuna vittima. E una promessa, far uscire la verità e condannare i responsabili. Così Gianpaolo Matrone, il sopravvissuto simbolo della catastrofe di Rigopiano e la figlioletta Gaia di 9 anni, hanno voluto ricordare rispettivamente la moglie e la mamma Valentina Ciccioni, in occasione del quarto anniversario della più grave tragedia sulla neve mai successa in Italia, consumatasi il 18 gennaio del 2017. Il pasticcere di Monte Rotondo, che in quel resort è rimasto sepolto per 62 lunghe e interminabili ore, oltre ad aver perduto la sua compagna di vita, ha riportato menomazioni gravi e invalidanti agli arti. Nella lirica che ha composto esalta la figura di mamma e di Valentina, che prima di volare prematuramente via ha fatto a tempo a lasciare in dono la cosa più bella che ci sia, la piccola Gaia. Matrone, in occasione della giornata in cui ricorre l'anniversario della tragedia, non intende dare altro spazio se non il ricordo ai sentimenti intimi e personali, né entrare nelle tante polemiche legate alla responsabilità di una strage di Stato, ai ritardi, dopo quelli dei soccorsi, di un processo che non ha ancora superato la fase dell'udienza preliminare alla teoria del terremoto, che gli imputati vorrebbero usare per dimostrare l'imprevedibilità dell'evento, al risarcimento statale che tuttavia, al momento, non prevede nulla per i superstiti. Una cosa però, Matrone, lo promette alla sua Valentina, una lotta senza sosta per far emergere tutta la verità sul Rigopiano e per far sì che chi ha sbagliato e omesso di compiere i propri doveri paghi.